Nella prossima puntata Medicina Amica ospiterà il dottor Franco Gaboardi, uno dei pionieri della chirurgia urologica mini-invasiva con tecnica laparoscopica e robotica, direttore dell'unità operativa di urologia del San Raffaele Turro, un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale per le malattie dell'apparato urogenitale. Insieme a lui tratteremo le più importanti patologie che colpiscono uno dei nostri organi più importanti, i reni. Medicina Amica vi aspetta martedì 31 marzo in diretta alle ore 21 su Telecolor.